Ci sono solo i rintocchi della campana della chiesa a rompere il silenzio della mattinata nella piazza di Molise. Un cane dorme al sole, in strada non incontri nessuno. Qui vivono appena 80 persone, anche se sulla carta i residenti sono 160. Molise è uno dei paesi molisani dove non nascono più bambini, anzi è uno di quelli con la situazione più drammatica. La dipendente del comune controlla sui registri l'ultimo bambino. Qui è nato otto anni fa, poi più nulla. Metà mattinata di un giorno di sole, un giorno di sole di fine ottobre, una bella giornata ma nelle strade di Molise non si incontra nessuno. C'è il deserto, solo qualche anziano davanti alle poche case aperte. Questa è la situazione che si trova in questo comune ma in tanti altri paesi dove non nasce più nessuno e dove restano a vivere nei mesi invernali solo poche decine di persone. In paese l'ufficio postale è aperto a giorni alterni, dentro solo il dipendente, nessun cliente. C'è più movimento solo nei giorni di riscossione della pensione. Entriamo nell'unico negozio. L'insegna dice tabacchi. In realtà è un bazar che vende un po' di tutto. Grazie a questa signora, almeno si può fare la spesa. Comunque non è solo Molise, diciamo ormai è Molise, siamo quasi tutti così. E lo speriamo bene perché sennò, e come fanno queste poche persone che stanno qua? Se io aiuto io, come fanno queste persone poi? Senta, lei all'insegna tabacchi però vende un po' di tutto. E vende un po' di tutte cose, sì. Grazie a Dio. Posso ringraziare il signore. E anche se come stiamo amici, non c'è rimasto nessuno. Siamo solo noi, i vecchietti che siamo noi. Non ci sono giovani? Sono tutti giudici perché dici che non è il lavoro e noi stiamo da soli. Siamo soli. Là ecco quando è la sera noi ci mettiamo dentro e basta. Non si esce più. Non si trova nessuno in strada? No, no, sicuramente. Tu puoi come vuoi però. Quindi che se. Purtroppo così è. Se non lavoro, non si mangia. E quindi pur noi siamo dai fuori. Quando andavamo giù, noi siamo fatti vecchi. A Molise si resiste, il sindaco è giovane, si chiama Domenico Cirelli. Racconta con entusiasmo quanto ha fatto per garantire i servizi in un paese dove non nasce più nessuno. È vero, non c'è il ricambio, ma il ricambio non c'è perché appunto si ci sposta. Si ci sposta anche per comodità molte volte. Raggiungere il campo basso alla fine da Molise cioè dista 20 minuti. Non è poi un grande percorso da fare. Però la comodità delle scuole, la comodità del cinema, la comodità del centro commerciale ci induce a fare questo. Anche se in realtà è un territorio ricco quello di Molise e ci tengo insomma a dirlo perché ho sempre apprezzato il mio paese e ci ho sempre creduto. Abbiamo una zona industriale che sta, nonostante la recessione attuale, sta diciamo in pieno vigore perché adesso stanno comunque, stiamo vendendo altri lotti di terreno utili all'insediamento di nuove fabbriche, di nuove piccole attività anche commerciali, anche di artigiani. Quindi resistere in un paese significa prima di tutto amarlo il paese e poi si pensa al futuro del paese.